benissimo ragazzi e ragazze possiamo continuare con questa bellissima collaborazione con coach media games ringrazio ancora tutto il team e tutto lo staff per aver accettato questa mia richiesta ho chiesto un codice di atelier sofid 2 in versione playstation 4 gentilmente mi è stato inviato quindi io li ringrazio veramente di cuore per la fiducia che riservano nei miei confronti e ragazzi io direi che anche voi dovete ringraziare anche voi coach media games quindi lasciate un commento non tanto per me ragazzi ma per loro perché se lo meritano veramente quindi possiamo continuare con un atelier sofid 2 ancora un ringraziamento a tutto lo staff di coach media games ancora un ringraziamento a tutti gli iscritti che mi seguono sul mio canale youtube possiamo continuare con la nostra avventura adesso vediamo se devo uscire fuori di casa probabile che vabbè qui abbiamo il pentrone magico che conosciamo benissimo però vediamo che dobbiamo andare qui il pentrone magico lo conosciamo ragazzi allora vediamo un po la mappa ok comunque a me lo stile grafico piace alcuni dicono ma lo stile grafico un po vecchio ragazzi io questo stile qui lo amo veramente quindi va più che bene non è che possiamo pensare sempre alla grafica quindi allora vediamo un attimino ok ok qui è per tornare a casa ottimo return ok ed è a posto ed è a posto nuova destinazione vediamo un po cosa c'è da fare ok ok Sì, non ho visto l'aiuto. Non ho visto questo, non ho visto questo. Questa è un'altra epoca, la realtà è un'altra cosa, che ti senti un po' di più? Sì, allora, potete prendere la propietà del materiale. E' un po' di farlo, non è vero. Questo è il mondo in questo mondo L'Elde Vigge è un mondo che ha creato l'Elvila L'Elde Vigge è un mondo che ha creato l'Elvila ... ... Sì, quindi non riesce a farci stare in attenzione E' un po' di rinconi Beh, è tranquillo Sòfì è come si davvero di un uccionamento con la connessione Un uccionamento connessione connessione ... Benissimo ragazzi Benissimo forse possiamo E' la volta buona che inizieremo a combattere Un po' Ok Vabbè qui lo conosciamo che con il quadrato Con il tasto quadrato possiamo Raccogliere materiali E così via funziona un po' con Materializer Insomma ecco Allora qui per combattere Eh si Proviamo il combat system ragazzi Proviamo il combat system Vediamo un po' Selezioniamo attacco Come ci viene chiesto di fare Ah devo colpire per forza lui va bene Ok R1 R1 Ok Ah dobbiamo selezionare la skill quindi Bene Vediamo un po' Ok E qui per difenderci insomma Quindi la skill attacco e difesa Ok Craft quindi Select Ok Bene Vabbè qui per lanciare gli oggetti che posso craftare insomma ecco infatti E la cosa ci è chiara eh La situazione ci è chiara qui ragazzi Ci è veramente chiara Ok 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 Grazie a tutti. Ci sono molti nemici a disposizione. Allora, cosa dobbiamo fare? Vediamo un attimino. Cosa dobbiamo fare? Colleziona dei materiali. Va bene. Qui sono nemici. Lì cosa abbiamo? Ok. Poi sappiamo benissimo che con ogni arma possiamo raccogliere materiali diversi, no? Quindi... Allora, cosa dobbiamo fare? Allora... 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 Ok. Allora... 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 ok qui iniziamo ad elaborare ok vabbè livello di alchimia giustamente ci vuole bene ok bisogna selezionare i materiali ok questo perché questi qui rossi non possiamo ancora elaborarli non possiamo creare quelle cose lì insomma se segnano rosso via un po' qui chiede quello che serve sintetizziamo sintetizziamo ragazzi quindi è qui devo cercare di capire un attimino ok ok bene è andata bene? diciamo qui posso sintetizzare ok ancora qualcosina difesa più tre manca un altro componente mi sembra di capire vediamo un po' ok ok un attimino ecco si può ruotare per far andare poi qui poi mi dovrò ricordare di questa cosa perché vediamo un po' ok sembrerebbe che sto facendo bene al momento dico sembrerebbe perché poi non voglio ok molto molto carino devo dire che è veramente fatto bene il modo di craftare e di creare andiamo qui che diciamo era già preimpostato in parte proviamo eh no facciamo in questo modo no non posso ah quindi adesso come la mettiamo qui eh si ruota ma e non posso farlo oh ok bene 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 credo che abbiamo finito per adesso eh ok credo vediamo un attimino allora qualità ok vai vediamo un po' cosa ne esce fuori voilà trofeo sbloccato e la qualità aumenta vabbè l'alchimia è il pezzo forte di questo titolo insomma di tutta la saga degli atelier ok bene 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 molto molto bene 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 Iscriviti al nostro canale Sì, perché non c'era la proposta del prodotto? No, ho avuto una cosa molto bellissima. La proposta del prodotto del prodotto è stato un prodotto da parte del mondo, quindi non ho aspettato. Ma... e quindi potremmo vedevano. Se ci chiedete non vedo una scena... sì, ma ho fatto come ho fatto, mi ha detto, Grazie a tutti 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 Ed ecco il nostro pentolone che a noi piace tanto e che conosciamo soprattutto benissimo Conosciamo bene il pentolone magico e non so voi ma io lo conosco bene Vediamo un po' Allora Allora Ok OK, tranquilli è Siamo arrivati Siamo arrivati Sì siamo qui Ok penso che dobbiamo andare qui Non è molto complessa la situazione Almeno al momento Siamo arrivati 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 Sì Siamo 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 arrivati Siamo arrivati Questa Benvenuta Allora Allora ragazzi Allora Siamo arrivati 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 Grazie.